Conosci la pianta del denaro che porta ricchezza e prosperità nella tua vita? Le piante hanno un grande potere per aiutarci a migliorare alcuni aspetti della nostra vita. Piante e fiori sono importanti quando qualcuno vuole attirare l'energia nella sua vita. Ci sono molti vantaggi ad avere piante da interno, ma avevi idea che uno di questi vantaggi sarebbe stato quello di portare ricchezza e prosperità? Ma lo sapevi che ci sono piante specifiche che possono portare ricchezza e prosperità nella tua vita? Scopri di più sulla pianta del denaro in questo video. La pianta dei soldi. Ne hai una a casa? Esperti di tutto il mondo concordano sul fatto che i sempreverdi emanano buona energia a casa tua. Influenzano positivamente tutti i settori della vita e soprattutto gli affari. È in realtà un'anime che la pianta di Giada, che ha il nome scientifico Crassula ovata, è una delle piante più popolari da avere in casa per attrarre ricchezza materiale, buona fortuna e amicizie di grande valore. Questo è il motivo per cui la chiamano la pianta dei soldi. Molte persone in tutto il mondo conoscono il potere di questa pianta e che è il simbolo di prosperità, fortuna e ricchezza. Questo è il motivo per cui non è strano trovarla nella maggior parte delle case e anche nelle aziende. E hai mai pensato che questo potrebbe anche essere un ottimo regalo da offrire ai tuoi amici che stanno iniziando una nuova fase della loro vita? Come condividere una casa, sposarsi o anche avviare una attività in proprio? Non l'hai fatto ma noi siamo qui per te. Questo potrebbe sembrare un regalo molto semplice ma in realtà stai offrendo loro prosperità, ricchezza e successo offrendo loro la pianta dei soldi. Stai dicendo che auguri loro il meglio in questa nuova fase della loro vita. Dove collocare la pianta di Giada? È particolarmente indovinato tenere una pianta di Giada vicino all'ingresso. Vogliamo dare il benvenuto ai soldi in casa. Si può dire in rima Giada vicino alla porta, tanta ricchezza ti porta. Prendi una bella pianta di Giada sana e mettila vicino all'ingresso principale. Ci starà benissimo e potrà solo aumentare i tuoi introiti. Giada, la pianta dei soldi. Se fai attenzione alla pianta di Giada vedrai che le sue foglie hanno un bel colore, la Giada verde. È un simbolo di rinnovamento e crescita. Inoltre la forma delle foglie assomiglia a piccole monete e attirano ricchezza materiale e prosperità a coloro che ne hanno una. Allora perché non regalarla alle persone che amiamo di più, giusto? Allora perché?